La sostituzione della batteria del Roomba è un'operazione semplice e immediata. Capovolgere Roomba. Mantenendolo capovolto, rimuovere innanzitutto le quattro viti di fissaggio dal fondo. Quindi, la vite che blocca in posizione la spazzola laterale è staccare quest'ultima. Rimuovere la piastra di protezione dal Roomba. Utilizzando le apposite linguette, sollevare la batteria per estrarla dal Roomba e sostituirla con quella nuova. Dopo aver installato la nuova batteria, riposizionare la piastra di protezione e fissare saldamente le viti. Quindi, rimontare la spazzola laterale, facendola scattare in posizione e fissare la vite evitando di stringere eccessivamente. Grazie. 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 Grazie.